Il film diretto da Marco Zettinelli vinceva il David di Antonatello e tanti altri premi prestigiosi. Zettinelli che poi ti ha diretto? Sì, nell'Otello, nel film dell'Otello. Ma quella non è stata l'unica prova cinematografica perché tutti ricordiamo la splendida, grandiosa interpretazione di Cateri Celerdi della seconda notte di nozze con Antonio Albanese e con la direzione di Pupi Avati. Quindi se c'è ancora qualcuno che non l'ha visto non deve perdere questo film perché è davvero straordinario. Ma io volevo arrivare anche a chiederti se c'è qualcosa in cantiere, hai fatto un'altra fiction televisiva, fattorie in giro? No, assolutamente no. Sai come si dice abbiamo già dato, ho già dato abbastanza alla fattoria. C'è qualcosa invece? No, di questo tipo di cose no, ci sono altre cose, fiction, ho appena finito una partecipazione nel film, ci sono dei voti. Imposti in giro. No, assolutamente no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.